Si è svolta questa mattina in tribunale alla Spezia la prima udienza del processo che vede imputate quattro persone tra le quali due ex dirigenti dello Spezia Calcio ai tempi della gestione di Gabriele Volpi accusate di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina con riferimento all'ingresso in Italia tra il 2013 e il 2017 di 13 minorenni nigeriani alcuni dei quali poi diventati calciatori professionisti. Indagine in base alla quale come si ricorderà la FIFA aveva combinato allo Spezia il blocco del calcio mercato dal gennaio 2022 a tutto il 2023 sanzione poi revocata nel giugno scorso. Davanti al collegio presieduto dal giudice Diana Brusacca oggi è stato il giorno delle deposizioni di Girolamo Scione già a capo della squadra mobile della Questura della Spezia e del sovrintendente Luigi Carofiglio che hanno ricostruito l'indagine scattata nel 2018 e portata avanti attraverso intercettazioni ambientali e telefoniche e perquisizioni negli uffici del club. In aula l'allora amministratore delegato della società Luigi Micheli difeso dall'avvocato Giacomo Fenoglio che avrebbe firmato i documenti con la richiesta di ingresso in Italia per alcuni dei giovani calciatori mentre un altro degli imputati l'ex responsabile del settore giovanile Claudio Vinazzani difeso dall'avvocato Andrea Corradino sarebbe stata la persona incaricata di selezionare i giovani africani da portare in Europa in base al talento sportivo. Secondo la procura il sistema era stato studiato per aggirare le norme sull'immigrazione permettendo di far figurare i minorenni come presenti sul territorio nazionale senza accompagnamento e quindi destinatari di permesso di soggiorno dopo essere entrati in Italia regolarmente grazie ad un visto temporaneo per partecipare ad alcune competizioni giovanili con la squadra nigeriana dell'Accademia Abuja. Al compimento dei 18 anni sarebbero infine stati tesserati e avviati alla carriera sportiva. Tra gli atleti coinvolti ma non indagati i calciatori Davido Occherec che attualmente in forza alla cremonese e Umar Sadik che gioca in Spagna con il Real Sociedad.